Allora, un bel defetto oggi, 2-1, c'è assi rare, e l'ha già venuto con più torsale, quindi ho messo a fare meglio la prossima volta, e fare 1-1, sarà già bene. La sua offerta, e come al solito, però la forza di Azmi è tornata fuori, quindi ce l'abbiamo fatta, ma dobbiamo migliorare ancora tanto. E' un'altra partita agghiacciante. Voto 5, però vabbè, noi ci siamo impegnati comunque. Condizione fisica, come al solito, stile Inter degli ultimi tempi. Ciao ragazzi, alla prossima! C'è un'altra partita, che possiamo competere in questa campion, fino alla fine. E con 10 giocatori, in ogni gioco, possiamo vincere ogni gioco, grazie. Grazie. Grazie a tutti, vi sono davvero contento, molto buon match, in più oggi ho ho fatto la promozione, sono contento come tutto, ho messo 10 buti, impeccabile, super felice, e il guardia ha fatto il suo lavoro, siamo contenti. E' stato forti in faccia, quando è. E' stato buon, allai, un reommaggio alla società generale, molto buon adversario, ma abbiamo raggiunto, ma abbiamo raggiunto, buon match, ma abbiamo stato più forti. E' stato difficile, erano davvero buon fisicamente, e credo che abbiamo raggiunto. In seconda partita, è meglio, ma prima partita, troppo perdere di balle e non abbia più di organizzazione in l'equipe. E' stato buon, ma abbiamo raggiunto, ma abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto, abbiamo raggiunto. Grazie.